Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi vi portiamo in contrada a Mascione per il 21esimo Autoslum Città di Campobasso intitolato Gianluca Battistini. Ci troviamo in prossimità dell'ultima delle 16 birillate, siamo ormai al termine della seconda sezione di gara. I partecipanti quest'anno sono numerosissimi, ben 93. Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, una grande emozione ma specialmente una grande partecipazione di tutti i presenti per il campione locale, Fabio Emanuele. Tutti veramente tifano per la sua vittoria, staremo a vedere che cosa succederà. Rimanete con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. All'interno della concessionaria Vitale Motors siamo in compagnia del direttore di gara Giorgio Cosimo. Lei è direttore ormai da 4 anni di questo percorso, oggi le verifiche tecniche sono tanti partecipanti. Che cosa state facendo e in che cosa consistono? Oggi stiamo facendo le verifiche sportive e tecniche, ossia stiamo verificando che i concorrenti abbiano le necessarie licenze per poter correre e che le vetture abbiano le necessarie dotazioni di sicurezza per poter affrontare la manifestazione. Le vetture a quali requisiti devono rispondere? Le vetture sono vetture di tutti i tipi, tutte le tipologie, sia proprio stradali che prototipi. L'unica cosa che devono avere sono le misure di sicurezza che vengono controllate dai nostri commissari tecnici. Quindi devono avere impianto di estinzione, devono avere i roll bar omologati, sedili, abbigliamento idoneo, ignifugo e tante altre cose che sarebbe molto lungo spiegare qui. Parliamo del percorso, un percorso che per prima cosa quanto è lungo? Il percorso è lungo 3 chilometri e 440 metri, è una gara che si svolge in salita, e su questi 3.440 metri ci sono 16 postazioni di birilli. Le vetture praticamente devono nel minor tempo possibile partire, arrivare alla postazione di arrivo superando queste postazioni di birilli, questa specie di gymkana che si chiama slalom. La disciplina dello slalom, come ci diceva lei poco fa, sta tutta nell'abilità del piede del guidatore. Qual è il segreto per vincere questa gara? Bisogna essere molto calmi e tranquilli, avere una buona macchina, ma soprattutto essere molto abili. perché le postazioni di birilli, ogni birillate ha una distanza di 11 metri, farle in velocità con la macchina non è semplice, sembra facile ma non è semplice, per cui l'abilità sta nel non far cadere nessun birillo perché ogni birillo sono 10 secondi di penalità. Non ci resta che aspettare la gara di domani e vedere chi seguirà i suoi consigli. Ma guardi, di solito questo tipo di consiglio lo seguono tutti perché sono tutti bravi i nostri piloti. Quest'anno abbiamo una grande fortuna perché ci sono ben 93 iscritti e rispetto alla media nazionale è un buon numero, poi in questi periodi di crisi è veramente eccezionale. Luigi Vinaccia, campione di autoslalom, citerò soltanto le sue ultime vittorie. 2004, 2002, 2008, 2012 ha vinto il titolo italiano. In particolare ricordava che la tappa di Campobasso le porta particolarmente bene perché l'ha vinta quasi una decina di volte. Insomma, una grande soddisfazione che è ripagata dalla sua passione. Sì, sicuramente è una gara che la ritengo una gara di casa, che la faccio sempre con piacere. È una seconda tappa dell'italiano. Quest'anno non penso di partecipare all'italiano perché è una gara, è un campionato abbastanza lungo che impegna parecchio e quindi penso di fare questa gara solo perché è una gara che mi piace, ci tengo e soprattutto per le persone che organizzano. E poi c'è l'amico mio, Fabio Emanuele, che io con piacere vengo a trovare perché poi lui viene a correre a casa mia, vengo a correre qua. Quindi è un'amicizia di vecchia data che rinnoviamo con piacere spesso. Siamo al ventunesimo anno dell'autoslalom di Campobasso. Lei l'ha percorso diverse volte. Chiede a se è fatto del percorso, come lo reputa? Questo è un percorso molto tecnico, impegnativo e molto tipico delle gare di slalom. Quindi è un percorso, diciamo, uno dei migliori a livello italiano sicuramente. La sua abilità, la sua grande abilità, le ha permesso di vincere più volte anche il titolo italiano. Sicuramente una buona parte è dovuta anche all'auto che guida. Che auto guida? Che auto l'ha fatta vincere? E quali sono le caratteristiche che ha? Io tengo una macchina, un'osella a Pia 9, diciamo, una macchina di costruzione di 30 anni fa. Un prototipo costruito da osella che adesso ne sono usciti molti più nuovi. Però questo, il telaio, è rimasto vecchio. Però è stata aggiornata da tutti i punti di vista. Puntiamo un motore Alfa Romeo Superturismo 156, molto evoluto. E quindi sono macchine molto seguite, molto tecniche e in grado, proprio specifiche, per questo tipo di gare. Lei è un veterano di questa gara. Che consiglio si sente di dare alle persone, ai ragazzi, che approcceranno per la prima volta nella giornata di domani? È consiglio, prima di tutto, di tagliare il traguardo, di avere molta pazienza, di aspettare, perché poi la prima gara è fondamentale, tagliare il traguardo, e senza avere tante belleità, è fondamentale non fare danni. Poi dopo, pian piano, arrivano i risultati sicuramente positivi. Fabio Emanuele è uno dei campioni e dei veterani di questa gara. Da quanto tempo partecipi? Ma questa manifestazione è da lontano 1995. Diciamo che campione, proprio perché sono diventato campione, grazie a questa specialità, perché è una gara che viene fatta sotto, il percorso è fatto sotto la mia abitazione, sotto casa mia, e quindi avendo visto le prime volte da neofita questa manifestazione, mi ha invogliato a prendere parte a questo sport, e poi man mano, fortunatamente, sono venuti giù i risultati. Una gara importante, particolarmente quest'anno ci sono veramente tantissimi iscritti. Sì, quest'anno c'è stato il record. Noi, se non vado errato, nel 2007 facemmo un record che attestava circa 70 piloti. Quest'anno siamo a 102 iscritti e partenti dovrebbero essere 94-95. In un momento di crisi così forte, questa cosa a noi ci veramente ci dà una soddisfazione enorme, perché vuol dire che si trovano bene nel Molise, si trovano bene con le persone che abitano nel Molise, con questa manifestazione che penso sia organizzata in maniera eccezionale da tutto il team, e cioè il team significa i ragazzi che danno l'anima per fare il percorso, l'ACI, la famiglia Battistini in primis, che ci dà la possibilità di poter dare una mano e ospitare tutti questi piloti che vengono da fuori regione. A questo proposito, come nasce questa gara ed in particolare la scelta di dedicarla a Battistini, appunto a Gianluca Battistini scomparso? Gianluca Battistini era un forte pilota di automobilismo, guidava una vettura come quella che abbiamo alle nostre spalle, che quest'anno abbiamo voluto avere qui in mostra, e purtroppo è venuto a mancare per un incidente stradale molti anni fa, e se non vado errato l'anno dopo che lui è venuto a mancare, c'è stata questa cosa da parte di alcuni amici suoi più stretti, a far sì che si potesse ricordare Gianluca in una manifestazione sportiva automobilistica. Da allora è nata questa manifestazione, e la famiglia Battistini è sempre dietro di noi a darci manforte, a darci un aiuto per far sì che tutto vada per il meglio. Grazie a tutti.